Ciao ragazzi, sono Ori Bart, oggi vi faccio vedere una nuova app per il nostro motore Shimano Steps 8000 e 7000. Con questa nuova app possiamo collegare velocemente nel nostro dispositivo insieme alla nostra bicicletta perché il problema diciamo del soft originale di Shimano eTube io faccio veramente tanta fatica a connettere quindi praticamente non so se avete anche voi lo stesso problema però con questa app nuova che costa 1,69€ disponibile nell'app store si collega velocemente e senza problemi. In più possiamo settare con più precisione la nostra assistenza. Per scaricare la nostra app andiamo su Play Store, cerchiamo, eTube e il software da scaricare si chiama Steps Unlocker, questo qui, col lucchetto. Io l'ho già installato, costa 1,69€ ma ve lo consiglio. L'avvio, accendo la bici e in pochi secondi si connette al nostro dispositivo. Ecco qua, connesso quindi diciamo che ho scelto questa app perché si connette senza problemi e veloce rispetto all'app originale di Shimano. Nella prima schermata da tutti i valori impostati sulla nostra bicicletta, ad esempio il firmware, lo stato della batteria, eccetera. Poi sotto abbiamo la possibilità di settare la nostra trasmissione se magari facciamo degli upgrade sulla nostra bicicletta, oppure possiamo andare a settare finalmente anche i valori di assistenza Eco, Trail e Boost. Come vedete possiamo settare, io ho già settato, a mio piacere, l'assistenza migliore. Diciamo che ho fatto un setting in base al mio allenamento perché noi possiamo settare l'assistenza come vogliamo, zero assistenza oppure addirittura ha un valore fino a 50. Io adesso ad esempio ho messo un'assistenza molto bassa, quindi 20-20 come Eco, come se fosse quasi una bicicletta muscolare. Poi ho messo Trail, un'assistenza diciamo media se dobbiamo fare delle leggere salite che impegnano un po' diciamo come sforzo. E poi alla fine ho messo Boost con la massima potenza disponibile. Mi sembra addirittura che abbia potenziato un po' la potenza massima perché ha al 300% di assistenza e quindi la sento leggermente più potente rispetto al setting di serie. Il settaggio massimo, diciamo che Boost l'ho messo alla massima potenza perché mi piace avere una bicicletta reattiva, quando devo fare degli strappi che mi piacciono oppure delle discese veloci, l'ho impostata al massimo. Quindi come settaggio è molto personale, quindi possiamo settare a piacere l'assistenza della bici. Una volta scelta la nostra configurazione ottimale in base ai percorsi che vogliamo affrontare e in base alla durata della batteria do conferma col tasto Update ed ecco fatto, il sistema è aggiornato. Ora esco, disconnetti e voilà, la bici è pronta per essere utilizzata. Quindi questa app la consiglio a chi ha timore un po' della durata della propria batteria perché qui possiamo personalizzare perfettamente anche il settaggio Eco. In base al nostro allenamento possiamo settare perfettamente l'assistenza sulla nostra e-bike. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!